Facciamo il punto della situazione in relazione a quello che si dice lontano dai nostri confini rispetto al mercato della Juventus. La Juventus lavora per costruire un futuro che possa essere sempre più luminoso in un momento complesso come quello che i bianconeri stanno vivendo, fuori dal rettangolo di gioco. La squadra sta rispondendo al meglio e di questo Allegri è davvero contento ma per fare davvero felice Max bisogna fare bene anche fuori dal campo quando in estate il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Nel fattempo noi nell'articolo di oggi vogliamo riportarvi quelle che sono le voci che circolano all'est rispetto ai possibili movimenti in entrata e in uscita di casa Juventus. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao! Ciao!